Abbiamo appena parlato di cose molto profonde, ritorniamo alla musica Ritorniamo alla musica con i toro Meccanica Meccanica, ecco come si chiama il pezzo? L'amore ai tempi della crisi L'amore ai tempi, al tempo Ai tempi Ai tempi della crisi, eccolo qua, lo vediamo subito E' che c'è crisi anche in America E se qualcuno ruba un fiore per te Sotto sotto c'è crisi Ah, mettiamo che uscissi con una più bella come sei te Ti porterei sempre al cinema In quei giorni feriali ad ingresso ridotto E poi, parlando di noi Io ti spiegherei un blockbuster d'amore Non è realtà E che c'è crisi anche in America Ah, mettiamo che uscissi con una più bella come sei te Ti porterei sulle stelle Ma questa notte le stelle Non stanno a guardare noi Ma questa realtà In fondo l'amore è soltanto qualcosa che viene e va Se mi concevi la retorica E se qualcuno ruba un fiore per te Sotto sotto c'è crisi Sì, sì Ho visto la Villa Comunale Sì, la Villa Comunale di Lecce Ma da quanto tempo fa l'avete fatto questo? Un paio d'anni fa circa Ma è carina pure la canzone Ma è stata trasmessa in giro Ha avuto poca rotazione radiofonica Ma per problemi esclusivamente amministrativi Tra la produzione di Milano e qualcos'altro Promozione, cose eccetera Perché il disco è molto più carino Di quanti invece ce ne sono Ne esistono di famosi Rullo di tamburi a brevissimo Avranno un'esplosione assurda Questa è un'anteprima che ti do Però stanno lavorando su un nuovo progetto Con il quale non si spera Io ho alcune convinzioni insomma Che faranno un botto grossissimo Sono dei ragazzi in gambissima anche Sono tutti salentini Tutti salentini I temi delle canzoni sono attualissimi Quindi incrociamo le dita Anche per loro Certo Senti, mi dicevi che vai a cavallo Cioè, raramente Però comunque un cavallo ce l'hai Poi qual è l'altra tua passione? Ah, lo yoga Lo yoga, la meditazione Scusa, è una curiosità Magari se lo chiedono anche Ma uno quando fa lo yoga Io non l'ho mai fatto Ignorante, per carità Però stai là e mediti Come se medita? Cioè, a che pensi quando stai così Innanzitutto la regola fondamentale Si può dire? Certo, come no? Assolutamente Ma anche pregare e meditare Cioè, anche per parlare con Certo Col tuo spirito Certo E la meditazione ha delle regole Delle piccole regole Che poi una volta che riesci a fare le tue Ti viene tutto naturale Quindi si parte dall'eliminare Ogni tipo di pensiero Una parola Liberare completamente la mente Che già è una cosa difficilissima Però poi stando, sai, in un ambiente Abbastanza silenzioso Dove al massimo Riesci a percepire I rumori della natura Quale può essere il fruscio del vento Magari Nelle serate di pioggia Di fronte allo scoppiettio del fuoco Ti sto facendo proprio un'immagine Ediliaca di quella che potrebbe essere Sì, buonanotte fa Ma quando succedono queste cose Lo scoppiettio del fuoco Dai che ce la facciamo Io ho i termosifoni per esempio Non ci voglio il fuoco Io invece vicino al caminetto Riesco a trovare Riesci a concentrarti Insomma A scendere sempre nel Più a fondo a te stesso Sì E quando riemergi Che poi non c'è nulla di strano Non pensiamo né ad ipnosi strane Né a visioni di tunnel Niente È solo una forma di rilassamento Allora ti togli i pensieri che hai Quella è la regola fondamentale Altrimenti se stai teso Che ti deve suonare il telefonino Allora non fai nulla Allora Quello è una cosa Ti togli tutti i pensieri E poi a che pensi? Cioè quello è Cioè ti focalizzi su una cosa Sì Alcuni libri di yoga Ti consigliano di pensare A qualcosa che ti fa stare bene No sto pensando Beh Altre dottrine invece Una cosa che ti fa stare bene Sì Stai pensando? Eh sì No sto cercando la cosa che mi fa stare bene Il macello Però sto cercando Tu continua Continua Altre invece ti fanno visualizzare proprio La montagna con il ruscello La montagna La montagna esatto Devi immaginare Focalizzare proprio la montagna Il ruscello Ma dobbiamo stare con gli occhi chiusi Per forza Esatto E altrimenti ad occhi aperti Mi sa che vedi lo studio E quello che c'è intorno Sì 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 La montagna La vedo Devi ascoltare Percepire il rumore dell'acqua Del ruscello Il fruscio Freddo Pure dalla montagna Vabbè Praticamente mettersi a contatto Chiedo perdono a chi lo fa seriamente Stiamo scherzando Assolutamente Sei simpaticissimo No ma ma figurati Stiamo scherzando Dare anche un tono scherzoso E dopo lo yoga invece? Dopo lo yoga Altre cose Fai collezione delle farfalle Franco Bolli Ascolti musica Fai sport Ti piace lo sport Giochi a pallone No pallone no Io e il pallone siamo due cose proprio Completamente distaccate Certo Non sono mai riuscito Non è nella mia natura Quindi Dica per forza Esatto Ma mi piace ascoltare Magari ti piace un altro sport Ti piace un altro sport? Bella equitazione Ah beh certo Oltre a quello Ci siamo al cavallo Non faccio altro Ma segui le gare anche Se le segui? Sì sì Sponsorizzo anche un cavallo che va in gara Ah sì Un cavallo Sì 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 Seguiamo le gare proprio nazionali Siamo iscritti alla federazione italiana di equitazione E come Glamour Studio Sponsorizziamo proprio sia il cavallo che il cavaliere Senti e chi è il cavallo più forte? Io sono rimasto a Ribot Lo ricordi Ribot? Forse non eri neanche nato tu Poi c'è stato Varenne Ah Varenne Esatto Ma loro sono Ma noi a Ribot sono rimasto Che era degli anni 60 Anni 60 Hanno fatto anche dei film su Ribot Ah ecco vedi Eccetera eccetera Dopo di luce è stato Varenne E dopo Varenne? È stato il più grande Adesso non ci sono dei trottatori Non c'è un cavallo? Che è particolarmente di punta Un cavallo famoso? Non c'è in tutto il mondo? Attualmente No In tutto il mondo Almeno che io sappia Perché io non seguo il trotto Quella è un'altra categoria Quella di Varenne è la categoria del trotto Il nostro è salto Salto d'ostacoli Quindi Il cavallo più alto Più forte E' morto in gara L'anno scorso A Verona Durante Fiera Cavalli In diretta tv Oh Gesù Per un arresto cardiaco E quindi Quella è stata una grande perdita Nel mondo dell'equitazione Certo Proprio subito dopo un salto Si è accasciato per terra Con lo stupore del pubblico Sì Durante una diretta televisiva Infatti Ripeto Ci fu molto rumore Dopo quella Doping eccetera eccetera Poi non si sa mai Insomma Se si tratta di doping vero O Delle dicerie Però E quindi Il sabato o la domenica Che fai? Vai al cinema? No Io il sabato o la domenica Lo trascorro in studio Nella mia tranquillità Quando non c'è nessuno Perché noi generalmente Siamo in sei Durante la giornata in studio Minimo Quando facciamo gli esterni Poi Siamo molto più Molto più di sei Però preferisco stare nel mio studio Trascorrere delle giornate Insomma sempre Leggo tantissimo Ma proprio tanto 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 Mi piace documentarmi Sulle cose insomma Che mi interessano In quel determinato momento Della mia vita Non leggo nei romanzi Non sono particolarmente legato A letterature E che leggi? Io leggo di Psicologia Psicologia Ma mi sto concentrando su quello Quindi leggo tantissimo Anche Adesso è il periodo Che stavo leggendo Paul Ekman Che è un grande psichiatra americano Che studia Le microespressioni facciali E la fisiognomica Cioè La fisiognomica Studia I lineamenti del corpo Proprio Intesi come somatismi Conosci Borgna Certo E' uno dei più grandi Psichiatri italiani Assolutamente E' italiano nel mondo Nel mondo Internazionale Ho letto alcuni suoi articoli Alcuni suoi testi anche E devo dire che mi ha Affascinato molto Anche il modo in cui si approccia Alla materia Tantissimo Con la semplicità E l'amore Con la semplicità Arriva diretto Perché poi la psichiatria E' una scienza E' normale che io Da artista Devo andare a ricercare Pure dei testi più fluidi Più comprensibili Non sono né un medico Né nient'altro Sono solo No perché non è molto facile Leggere Borgna Sì 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 Appunto Non è facile Vabbè Andiamo se ne va E' finita la trasmissione Fabio Grazie Grazie per essere venuto Abbiamo visto Ascoltato cose belle Il tuo bellissimo lavoro Che fai Ti ringrazio Come fotografo Perché tu fotografo sei Nasco e voglio finire Anche come fotografo Perché la fotografia Mi ha rialzato Anche da alcune Da alcuni brutti momenti Bene Io ti auguro Che questi brutti momenti Non ci siano mai più Ti ringrazio Max Auguro anche a te La stessa cosa Una buona vita Grazie 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 a te Grazie a tutti voi Alla prossima settimana Buona tu per tu Ciao Grazie a tutti